Uff, amore! Ci sposiamo e dobbiamo arredare casa. Ci servono i mobili, le tende, i copridivani, i tappeti e quei piccoli accessori che rendono una casa unica. Ma dove troviamo un vasto assortimento a prezzi convenienti? Leggi qua. A Scordia, in provincia di Catania. Rosa Mobili SL Tessuti. Arredano e vestono la tua casa a prezzi imbattibili. Visita il sito rosamobili.it o sltessuti.it. Grazie a tutti.